Lo splendore del passato, quando Chieti dominava la scena, non solo regionale, porta ad est del Regno di Napoli, centro dinamico di altissime proposte culturali tra filosofi, musicisti, politici e intellettuali, fino al lungo declino dall'inizio del Novecento in poi. Ora è giunto il momento del riscatto e l'impulso giunge dai club di Chieti e Chieti Ovest del Rotary. I rispettivi presidenti, Aurelio Bigi e Paola Pierucci, stamane hanno convocato presso la Museo Universitario le istituzioni, gli accademici, gli intellettuali, ma soprattutto tanti uomini di buona volontà per condividere intanto il disagio per una città negli ultimi decenni svuotata dei suoi contenuti e poi per animare un comitato permanente che sia di impulso e di controllo alla classe dirigente tutta, affinché possa operare scelte di vera rinascita per Chieti e la sua teatinità. Se vi è una qualche azione che viene contro la città, il cittadino si deve legare alle classiche catene, deve fare le manifestazioni, ma deve fare quello che un popolo vero, dei cittadini veri, non dei sudditi, sono in grado di fare. L'area metropolitana sia una realtà e una realtà del futuro e che non possiamo non tenerlo in considerazione è fuori di dubbio, però dobbiamo pure considerare che Chieti e Pescara sono due città talmente complementari l'uno con l'altro, che non debbano farsi la guerra. L'importante è capire politicamente e agire di conseguenza che tutto ciò che riguarda l'area culturale e di Chieti, ciò che riguarda l'area commerciale e industriale e del commerciale prevalentemente è di Pescara. Viene lanciata la proposta di un comitato permanente, qualche associazione già c'è che opera in tal senso, però ci vorrebbe qualcosa di più incisivo? No, soprattutto noi abbiamo avuto la sensazione che mettendo insieme le nostre idee, le nostre club Rotary, di altri club service della città e di coloro che hanno risposto oggi al nostro appello, si può anche un pochino monitorare quello che oggi verrà detto e che dovrebbe essere poi realizzato.